Il sistema telefonico della tua azienda può aiutarti ad incrementare il tuo business ed eliminare i colli di bottiglia che rallentano le tue operazioni quotidiane. Wildix è il primo sistema di unified communications e collaboration basato su browser. Realizzato per uso aziendale, si rivolge a piccole e medie imprese che hanno bisogno di aumentare la propria produttività e fornire ai propri dipendenti strumenti di collaborazione efficienti ma semplici da usare. Con l'aiuto della soluzione Wildix, le aziende possono attivare facilmente il remote working e consentire ai propri dipendenti di lavorare da qualsiasi dispositivo e luogo. Oggi le persone che visitano il tuo sito web per acquistare prodotti e servizi vogliono un'interazione dal vivo con la tua azienda. Wildix porta WebRTC sul tuo sito web e lo trasforma in uno strumento di marketing efficiente. Di conseguenza acquisisci nuovi clienti, aumentando sia la soddisfazione del tuo cliente che le vendite sul web del 52%. Wildix è davvero il primo fornitore ad aver integrato completamente il WebRTC nella piattaforma di collaboration. Il tuo browser può funzionare come un normale telefono, senza il bisogno di installare dei client o qualsiasi altro componente. In questo modo, le aziende risparmiano fino al 25% del tempo sulle operazioni quotidiane, ovvero due ore per dipendente. La sicurezza non deve mai essere delegata a terze parti. Tutti i prodotti devono avere le funzionalità di sicurezza integrate. Ecco perché tutte le soluzioni Wildix sono secure by design, senza la necessità di installare VPN e SBC. Il vantaggio più importante di Wildix, in primo luogo, è la possibilità di entrare in contatto con qualcuno quando hai bisogno di parlare con lui. Un altro vantaggio è la possibilità di videoconferenza. La cosa grandiosa di Wildix è che non è necessario andare in un'altra stanza per fare una videoconferenza. Per portare il prodotto sul mercato, Wildix si affida all'ecosistema di partner commerciali certificati in tutto il mondo. I partner Wildix sono accuratamente selezionati tra i migliori esperti del settore. Consiglio Wildix perché è un prodotto unico e penso che in questo settore si tratti di essere diversi e fornire una soluzione completa. Nel mio processo decisionale la funzione Kite è stata uno dei fattori decisivi che mi ha fatto scegliere Wildix. Lo abbiamo collegato benissimo nella nostra home page sotto i nostri contratti. Il tutto è fatto in modo serio. Non in stile privato ma professionale. Possiamo anche fornire la cronologia delle chat al cliente. In quest'ultimo caso, se si tratta di una sorta di protocollo di negoziazione, la alleghiamo al cliente. Wildix aiuta le aziende a semplificare le comunicazioni e aumentare la produttività, con uffici sales in tutto il mondo e il nostro riparto di ricerca e sviluppo.